Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale. Il video di oggi sarà un po' diverso dal solito perché non sarà un tutorial su Wix, bensì affronteremo un argomento che ancora oggi in Italia è considerato un tabù, ovvero la partita IVA. Perché ho deciso di fare questo video? Beh perché durante le consulenze che faccio, oppure dai messaggi che ricevo qui su YouTube, l'argomento partita IVA non viene quasi mai menzionato oppure del tutto trascurato. So che può sembrare un argomento complicato, soprattutto perché sul web ci sono tantissime informazioni che possono confonderti. Ma ti assicuro che è molto importante, soprattutto nel momento in cui decidi di aprire la tua attività e di conseguenza un sito web. Nel corso di questo video voglio parlarti della mia esperienza personale, anche perché sono sicuro che molti di voi che seguono i miei tutorial lo fanno perché stanno pensando in questo momento di lanciare la propria attività e quindi di creare il sito web. Ti parlerò delle sfide che ho affrontato io stesso nelle ricerche di informazioni e poi di come Fiscozen abbia semplificato la gestione della mia partita IVA. Fiscozen è un servizio online che ti offre un commercialista dedicato via email o telefono. È una dashboard super intuitiva per gestire la tua partita IVA. Con loro puoi emettere fatture anche in formato elettronico, calcolare le tasse in tempo reale, cosa veramente molto figa, e verificare le prossime scadenze o adempimenti. Resta fino alla fine di questo video perché più avanti ti parlerò anche della mia esperienza personale con Fiscozen e poi i costi di apertura. Mentre ti anticipo già che se stai pensando di aprire la tua partita IVA, Fiscozen mette a disposizione una consulenza gratuita con un suo esperto in cui chiarire qualsiasi dubbio o domanda. In descrizione trovi il link per la tua consulenza gratuita. Iniziamo subito con il dire che avere la partita IVA è un addempimento burocratico obbligatorio se hai un'attività. Entrando ancora di più nello specifico, se hai intenzione di creare un sito web per la vendita di servizi o prodotti online, allora hai anche l'obbligo di indicare la partita IVA all'interno del tuo sito web, di solito nel piedi pagina. Si tratta quindi di un elemento cruciale per operare legalmente e conformemente alle normative fiscali. Averla dimostra che la tua attività è registrata e riconosciuta da tutte le autorità. E qui ti introduca il primo vantaggio di avere la partita IVA, ovvero l'aumento di credibilità di te stesso o della tua professione agli occhi dei clienti, dei partner o dei fornitori. In poche parole dimostri di lavorare legalmente e di rispettare tutte le normative. Anche perché praticamente tutte le aziende o comunque fornitori preferiscono collaborare con professionisti che hanno una partita IVA, soprattutto nel caso in cui si cercano collaborazioni durature nel tempo. Tornando all'argomento sito web, per quelli che gestiscono transazioni online, quindi proprietari di e-commerce, la partita IVA è spesso richiesta addirittura dai processori di pagamento. Senza una partita IVA potrebbe essere difficoltoso ottenere l'elaborazione degli accrediti dei pagamenti. E credetemi, questa è una di quelle cose che mi viene chiesto veramente più spesso. E poi ragazzi, la partita IVA è essenziale per emettere fatture valide. Ed è fondamentale quando si gestiscono transazioni online, vendite di prodotti o regolazioni di servizi tramite il proprio sito web. Io stesso, nel momento in cui ho deciso di lasciare il mio lavoro dal dipendente e poi diventare finalmente un web designer, in contemporanea ho deciso di aprire anche la mia partita IVA. È stato semplice? Assolutamente no. E questo per diversi motivi. Il primo perché nella mia famiglia sono tutti dipendenti, quindi sono l'unico che ha la partita IVA o comunque che ha avuto questo pensiero e quindi sicuramente non mi è stato consigliato. Il secondo è perché su internet ci sono veramente tantissime informazioni che inizialmente mi hanno confuso e che quindi mi hanno spinto a rivolgermi ad un commercialista. E qui subentra il terzo motivo, cioè che non tutti i commercialisti sono aggiornati e comunque sanno consigliarti come muoverti nel mondo digitale. Per esempio, a me è successo addirittura che un commercialista mi sconsigliasse di intraprendere questa nuova professione, probabilmente perché non sapeva nemmeno come inquadrarmi. Poi però ho trovato Fiscozen e ho richiesto io stesso la consulenza gratuita. Con poche semplici domande mi hanno fatto un quadro generale della mia situazione e in breve tempo ho aperto la mia partita IVA e quindi lanciato l'attività. Come ti dicevo all'inizio del video, Fiscozen mette a disposizione una dashboard super intuitiva con cui puoi emettere fatture anche in formato elettronico, calcolare le tasse in tempo reale e verificare le prossime scadenze o adempimenti. La mia unica paura era proprio emettere la mia prima fattura, ma devo essere sincero, grazie alla chat che ho a disposizione ho ricevuto immediatamente i consigli giusti per non sbagliare. Inoltre mi è stato assegnato un commercialista super disponibile e soprattutto puntuale, cosa che io apprezzo moltissimo. E poi, cosa molto importante, si occupa anche della mia dichiarazione dei renditi, che è inclusa nel servizio. La cosa bella di Fiscozen è che hai veramente tantissime funzionalità a disposizione, per esempio la sezione dedicata alle fatture che hai messo ma che ancora non ti sono state pagate, oppure il calcolatore di tasse che si aggiorna in automatico nel momento in cui tu incassi una nuova fattura. Quindi veramente zero rischi di errore. Per chi sta iniziando in questo momento e vuole lanciare la sua attività, il costo annuale del servizio parte da 399€, ma usando il link che trovi in descrizione, oltre ad ottenere una consulenza gratuita, avrai diritto a uno sconto di 50€ sul tuo primo anno insieme a Fiscozen. In descrizione trovi il link per prenotare la tua consulenza gratuita. Bene ragazzi, questo video termina qui. Spero che queste tipologie di informazioni un po' diverse dal mio solito format ti siano state d'aiuto. E se così fosse, mi raccomando, fammelo sapere lasciando un like a questo video e poi di iscriverti al canale per non perderti l'uscita di tutti i miei nuovi tutorial. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!